La prova del GOB, episodio 2, provate a leggere i titoli di Schettici 24, seguendo il GOB. Crisi migranti, nuove sanzioni dell'Unione Europea contro la Bielorussia. Mattarella è sconcertante e incoerente quanto avviene ai confini dell'Europa. Nel Regno Unito è confermata la matrice terroristica per l'esplosione di aerea a Liverpool. Il governo innalza il livello dell'allerta a grave. Johnson a restare vigili. La manovra ha protenzionato. Da domani inizia il suo iter parlamentare che si preannuncia accidentato. Letta propone un patto dei leader per mettere in sicurezza il testo. L'anagrafe online da oggi attivo è disponibile per tutti i cittadini. in una piattaforma digitale che consente di scaricare i certificati anagrafici evitando le file degli uffici comunali. L'attesa è finita. Torna a Gomorra con la stagione finale della fortunatissima serie firmata Sky Original in onda da venerdì prossimo su Sky Atlantic.